Il carisma non va conservato come una bottiglia di acqua distillata, va fatto fruttificare con coraggio, mettendolo a confronto con la realtà presente, con le culture, con la storia, come ci insegnano i grandi missionari dei nostri istituti. Un segno caro che la vita religiosa è chiamata a dare oggi è la vita fraterna. Ma per favore che non ci sia fra voi il terrorismo delle chiacchiere, eh? Cacciatelo via, eh? Oggi la cultura dominante è individualista, centrata sui diritti soggettivi. È una cultura che corrode la società a partire dalla sua cellula primaria, che è la famiglia. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai partecipanti all'Assemblea Nazionale della Conferenza Italiana Superiori Maggiori. Nella Sala Clementina il Pontifici ha chiarito che la vera profezia non è mai ideologica, non è alla moda, ma è sempre un segno di contraddizione secondo il Vangelo, così come lo era Gesù. Soffermandosi sul tema delle periferie e di una chiesa che esce, Papa Francesco ha poi aggiunto che la vita consacrata può aiutare la chiesa e la società intera dando testimonianza di fraternità. E' possibile vivere insieme come fratelli nelle diversità.